Presidente, per quanto riguarda la soluzione Alitalia, la trova giusta, sostenibile la soluzione che ha trovato il governo con l'ingresso di poste? Direi di sì, anche alla luce di quello che sta succedendo nel mondo, della crisi che sta investendo anche le società di trasporto aereo. Io credo che questo ingresso di poste rafforzi la posizione di Alitalia in ragione di una possibile partnership internazionale che è una strada obbligata a cui sono tenute ormai tutti i vettori europei. Non c'è più spazio per le singole compagnie di bandiera, c'è spazio per compagnie europee a scala europea. Arrivarci però a una partnership in stato fallimentare non è esattamente il modo migliore per trattare, meglio arrivarci da una posizione di forza o di relativa forza come può essere quella dovuta all'ingresso di poste. Quindi una buona operazione che i francesi avrebbero fatto già 50 anni fa.